In questo capitolo ci occuperemo di testi, titolazioni, sottopancia e grafica animata. Andiamo ad aprire intanto il progetto, apri il progetto, 08 testi grafica essenziale. In questo progetto abbiamo delle sequenze che ci aiuteranno a scoprire i nuovi strumenti per la titolazione all'interno di Premiere. Il metodo precedente per creare dei titoli, la vecchia titolatrice, esiste ancora, non è totalmente scomparsa, ma dalla versione 2017 del programma si preferisce un'altra procedura. Abbiamo un set nuovo di strumenti appositamente pensati per creare, gestire e soprattutto ridistribuire velocemente elementi di titolazione. Qui abbiamo un semplice montaggio che ci propone delle viste su delle statue. Immaginiamo quindi di voler aggiungere un titolo oppure dei sottopancia, dei testi inferiori per una didascalia all'apparire di ogni statua. Sicuramente possiamo intervenire al volo. Una delle grandi novità che è arrivata appunto dalla versione 2017 in poi è lo strumento testo. Sappiamo che in Premiere è sempre mancato un accesso diretto ai testi, prima si doveva passare appositamente per un cosiddetto oggetto titolo. Adesso è diventato facilissimo fare clic sullo strumento testo, cliccare in un punto qualsiasi del nostro fotogramma e digitare un testo. Statua e queste. Poi lo si può gestire come un'immagine qualsiasi con la freccia. Vedo che nella prima traccia video disponibile, in questo caso della V2, è stato creato un oggetto che in genere viene chiamato figura ed eventualmente, come in questo caso, prende il nome del primo testo inserito. Come primi esempi di titolazione grafica animata all'interno di Premiere, voglio prendere la strada più facile. Intanto mi libero di questo testo, lo selezione col cance, lo elimino. Passo allo spazio opposito di lavoro, che viene chiamato grafica. Eventualmente lo ripristino. E come dicevamo, voglio prendere una strada più facile e veloce. Sicuramente una strada che mi permette di illustrare come si è cambiato e come si è diventato più performante. Ecco il meccanismo delle titolazioni. Non si ragiona solo creando al volo, come abbiamo appena fatto, un testo o più testi. Beh sì, si ragiona per modelli, cioè per pacchetti compatti di testi, grafica, più o meno animate, da poter utilizzare più volte. Noi abbiamo a disposizione delle librerie di modelli e possiamo poi creare anche i nostri. Il pannello grafica essenziale fa per l'appunto questo lavoro. Nella sua modalità di sfoglia mi permette di dare un'occhiata ai modelli che sono installati direttamente con il programma. Quindi questa lista che compare in cui vedo alcune voci tipo Chuck Classico, ciclo sfondo notizie, didascalie immagine moderna, logo bug e così via. Sono dei modelli già presenti comunque in questa macchina. Allora ecco che subito io potrei andare a scegliere uno di questi modelli e applicarli al mio lavoro. Qui sulla nostra installazione abbiamo questo set già pronto. Possiamo anche aggiungere tramite file esterni, tramite librerie esterne. Alcuni di questi modelli sono stati creati direttamente in Premiere, altri invece si basano su After Effects. Quindi se volessi lavorare velocemente e preparare delle didascalie per tutta questa produzione, potrei andare a dare un'occhiata a ognuno di questi modelli, posso anche selezionarli e con la I di Info vederli in una scheda a parte. Se ci sono animazioni come in questo caso, ecco il passarci sopra mi permette, stile pannello progetto ecco, di vedere il dispiegarsi di questa animazione. Ci possono essere delle informazioni interessanti e soprattutto ecco per utilizzare al volo questo elemento, basta prenderlo e trascinarlo sulla prima traccia video disponibile. Immaginiamo ecco che qui all'inizio avrò un'introduzione di questo genere. Quindi un'animazione e due spazi di testo che poi sono personalizzabili. Perché da qui in poi io posso semplicemente cliccare sui vari livelli di testo, i vari elementi di testo, e o con la freccia nera tramite il doppio clic, oppure con la T di testo, entrare subito nel testo e scrivere quello che voglio. Qui scriviamo statua equestre e qui come sottotitolo potremmo inserire il museo XXX. Riprendo la freccia, torno indietro. Ecco che ho la mia bella di Ascalia che ha un'entrata, una permanenza ed eventualmente un'uscita, come in questo caso. Ora posso sicuramente tornare nel grafico essenziale, sezione sfoglia, e prendere lo stesso elemento e riutilizzarlo, oppure usare un altro. Riprendo lo stesso, lo metto, lo trascino sopra l'inizio della seconda clip, o meglio del secondo gruppo di statue, questo qui, e allora ricomincio a personalizzare. Gli oscuri. Città di XXX. Con questi modelli di grafica essenziale ottengo numerosi vantaggi rispetto alle tecniche precedenti. Da una parte ho sicuramente una certa velocità di elaborazione, e ho anche una certa omogeneità, perché comunque lo stesso modello, come ben vediamo, possiamo riprenderlo più e più volte e riutilizzarlo con vari tipi di testi e impostazioni. Un altro aspetto importante di questi modelli è che non sono dei pacchetti completamente chiusi. Effettivamente, quando clicco su un elemento, vedo che ho l'accesso tramite la scheda modifica a tantissime caratteristiche. Potrebbero essere caratteristiche grafiche, di posizioni, geometriche, oppure, nel caso dei testi, il classico approccio, ecco, che potremmo avere con un box di testo, quindi font, dimensioni, caratteri, colori, ombra, e così via. Possiamo ancora andare avanti, nel senso che deseleziono, torno in grafica essenziale, sfoglia. Ho dato un'occhiata ai modelli presenti sulla mia macchina. Sicuramente posso andare con il pulsantino qua in basso, installa modello di grafica animata, posso andare a caricarne altre che magari ho scaricato da internet, o da qualche vendor, qui ho un mercato di vero e propria disposizione, che è costituito dall'Adobe Stock, dove possiamo vedere, ecco, proprio gli ultimi arrivi, in fatto di titolazioni, transizioni, sottopancia animati, e così via. Ovviamente sono a pagamento, ma qui vedo anche la voce gratuito da segnalare. Qui c'è un filtraggio per i gratuiti, non sono forse tantissimi, ma ogni tanto mi invito a guardare che magari è arrivata qualche novità. Anche qui molti sono di base Premiere, alcuni sono di base invece After Effects, il che implica a volte, segnalo, un po' più di tempo di elaborazione. Qui per esempio vedo questo Visual Trend. Lo seleziono, clicco sulle Info, The Fluid Self Transition. Allora qui è stata pensata, per distribuzione, una transizione. Un qualcosa, una serie di elementi grafici che copre, e probabilmente poi rivela qualcos'altro. Questo nero, che vedo come sfondo, sarà un trasparente. Allora ecco, mi piacerebbe aggiungere, per esempio, una transizione tra il momento A e il momento B. Qui eventualmente poi vediamo se fare più o meno spazio. Proviamo allora a prendere questa Visual Trend, trascinarlo, e lo appoggiamo qui sopra. Eventualmente c'è da attendere un attimo per lo scaricamento, oppure per la sincronizzazione dei font. Facciamoci un po' più di spazio. E diciamo che vogliamo proprio usare questo elemento come transizione, cioè a sovrapporre il passaggio tra il punto A e il punto B. Proviamo. Quindi in maniera veramente molto veloce e molto semplice, ecco una possibile transizione. La seleziono ancora un attimo. Facciamo qualche piccola modifica. Per esempio questo oggetto, se lo trattiamo come un qualsiasi oggetto, nel controllo effetti, scopriamo che ha delle caratteristiche, delle caratteristiche di movimento, posizione e scala. Vediamo di capire, per esempio, se questo è il massimo di grandezza che abbiamo. Proviamo a scalarlo un po' in basso. Ed eccolo qui. Quindi scopriamo che potevamo anche fare una versione un po' più piccola, con più righe. Proviamo ancora una volta. Adesso qui tra il momento di Oscuri e qui la statua di Ercole. prendiamo sfoglia, riapplichiamo la stessa transizione. A volte bisogna attendere un attimo. questa volta decido di lasciarla di questa dimensione, quindi con queste fasce molto grandi che coprono tutto. Però la possiamo sempre selezionare e se l'autore del modello ha lasciato qualcosa, qualche elemento da personalizzare, ecco che lo vediamo qui, nella sezione Modifica, sempre di grafica essenziale. Ricicliamo quindi la stessa identica transizione, ma stavolta, per esempio, cambiamo i colori. Per esempio andiamo verso il blu, per uno. Abbassiamo un po' anche questo. Invece questo bianco lo lasciamo, lo facciamo diventare un rosso acceso. Ed eccolo qui. Si può sempre scalare, comunque facciamo 90%. Così ci presenta qualche riga in più. Ecco quindi, bastano un paio di piccoli esempi, come in questo caso, per illustrare quali sono le potenzialità del grafica essenziale. Non è quindi solo uno strumento di testo o di grafica, ma un vero e proprio apparato con cui possiamo velocemente organizzare e sistemare tutta la parte testuale di titolazioni, sottopancia, di dascalie per le nostre produzioni. In seguito invece impareremo a maneggiare gli strumenti veri e propri e a creare i nostri modelli personalizzati.